Amici di Caccio Paccio Ma sei uno schifoso Ma che cazzo voglio? Ma come che cazzo voglio? Stiamo in diretta Ma quello voglio dire? Ma non lo vedi quando vengo qui tu devi stare pronto Allora, ieri il Napoli Europa League Europa League Napoli ieri ha maramaldeggiato Sulle rovine del Midlands Midlands Non so come si dice I danesi I danesi Norvegesi, finlandesi Che cazzo so? Sono brasiliani del sud Ma che stai a dire? Qualcuno gioca nel mato grosso Allora, in pratica Ieri Sarri ha dovuto ammettere Che deve dare più spazio a sto gabbiatini Perché questo gabbiatini ogni partita che gioca È sempre uno dei migliori in campo E poi segna, vede la porta Vede la porta Il Napoli ha questo capitale Non può non sfruttare Esatto Ma infatti questa è una maretta che c'è C'è maretta Il ragazzo non è contento Non è contento? Io in qualsiasi altra squadra giocherei proprio a occhi chiusi Certo, inventate qualcosa Come potrebbe inventare? Un 4, 2, 3, 1 Ma sai il problema è che ora quelli stanno a giocare bene Poi è andato a sfrucugliare la mazza Ma non è che quando entra gabbiatini viene a rompe i coglioni Insomma gioca bene pure lui Ho capito? Ho capito che sei un maiale Ecco che ho capito Vabbè All'unzio Ma dopo colazione me la rompi i coglioni? Io non lo so Favolo prima no? E che prima? Allora E prima c'hai sonno E dopo hai magnato Guarda che Te sei un personaggio difficile Non sarà che sei tu petulante? Io per calciofasso Petuli 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 Abbiamo raggiunto i 3.000 Ti farà piacere poi magnà settimana prossima Quando porto la roba, il cibo Magna Allora mi devi dare anche un qualcosa Non è che poi magnà e basta Santo Dio Per una magnata che abbiamo fatto Spuzzosa Pura buffet Pura buffet Guarda che io quando compro il prosecco Mica abba da spese Comprova al dobbiatene Sono 9 euro Al dobbiatene E certo Allora Tutti ce lo scrivono Bisogna vedere che Poi Chi è? Poi La Lazio La Lazio mi è andata Dove è andata la Lazio? Dove è andata? A Rosenborg A Rosenborg E ne ha fatti due Questo Giorgi dice che comunque Guarda che abbiamo la Santona C'è la Santona Magnetica 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 A Basso Lazio A Basso Lazio Ma stiamo parlando di Lazio Eh che vedi Lei ha capito È intervenuta C'è la Magnetica Quando tu dici Lazio Lei interviene e dice A Basso Lazio Lazio è giù 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 Bu Bu Mentre va giù Bu Cioè viene accompagnata A i bu Mentre va giù Esatto Però Se lo dice Magnetica Io Comunque È già Mi fiderei È quasi già qualificata Questa ragazza Ha delle intuizioni Sì sì Come no Quindi per il derby Per il derby Per il derby Che vuoi sapere Come finisce? La Lazio male Male E allora E per l'altra squadra? Come quale? Il derby La Roma La Roma Ma Roma Vince Lo vedi Lo vedi Lo vedi E se lo dice la Santona Se lo dice Magnetica Se lo dice Magnetica Magnetica Mi sveglio Buongiorno mondo Lazio giù Perfetto E quindi Vabbè La Lazio Non ne parliamo Perché altrimenti Magnetica Si incazza Magnetica E la Fiorentina Invece È andata a Poznam Poznam Come è finita? L'hai vista? No non l'ho vista Ah Tu non segui più il calcio Non ti piace più come una volta? No Ieri sera io Avevo Un uscito con delle persone Ma perché mi sposti Il calcio Se arrivi via Con delle persone Si è uscito Con delle donne Pensavo la faccia No 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 Le donne Si è uscito No no una Una volta Magari anche Ormai una Chi era? Come chi era? Chi è? Non si può dire C'è la privacy Ah la privacy Non posso dire scusa? Schifoso Va bene Schifoso Perché tu Non c'eri tu Se no Quest'anno Il ragazzi Accorderà Robert D'Anne Ecco Ecco Magnetica Sentenziato A primo grado Appello e Cassazione Perfetto Allora ringraziamo Magnetica Per queste Voi fate tesoro Andate a giocare a SNAI Perché Magnetica Si è pronunciata Esatto E quindi niente Saluto a tutti quanti Amici di Calciopazzo Abbiamo raggiunto i 3000 Adesso puntiamo i 4000 Dateci una mano Si Un saluto Grazie a tutti i nostri